Yuki, ancora una bella Milano stasera? Sì, siamo stati molto bravi anche fino alla fine e sono molto contento. Ascolta, com'è giocare contro una squadra che per quasi la totalità indossa le mascherine? È una cosa strana, è una cosa vista poco nella palla a volo. Eh sì, vista poco, però non è strano, anche adesso è un momento un po' difficile, quindi qualcuno mette le mascherine è giusto cosa. Senti, voi vi siete allenati con le mascherine quando avete avuto tanti casi, com'è giocare con le mascherine? È un po' fastidio, però se metto la mascherina è una sicurezza, ma dipende da noi, anche l'avversario, se c'è un positivo dobbiamo stare attenzione, quindi è normale. Ma tu giocheresti con la mascherina? Io posso giocare, ma è fastidio tanto, quindi io non metto, però fuori da campo sempre metto per l'attenzione, sì. Grazie, Yuki.